Benvenuti benvenuti cari amici siamo BD qui su un nuovo video naturalmente come sempre ricordo di subito dal like, iscrivi al canale, iscrivi anche al canale di Instagram oggi andiamo a parlare della prima pre-sale lanciata su DeFi 2.0 è stato letteralmente lanciato il primo acceleratore di DeFi 2.0 andremo a vedere il tutto all'interno di questo video e per cui iniziamo subito allora ragazzi per cui è stato letteralmente lanciato l'acceleratore di DeFi 2.0 andremo a vedere il tutto perché inizieranno a essere lanciate nuove pre-sale quindi questa è la schermata io ti lascio sotto il link in descrizione se vuoi andarti letteralmente a sbizzarire con il tutto DeFi 2.0 ovviamente è un progetto super famoso anche con il suo token andremo poi a vederlo e volevo mostrare anche quello che è il loro Twitter perché come vediamo qui praticamente hanno annunciato il lancio del acceleratore di DeFi 2.0 quindi vedremo che è in futuro quello che potrebbe fare vi ricordo comunque DeFi 2.0 è sostenuto ad esempio da OKEx, è sostenuto da Metamask e Tura come investitori ha anche gli angels di Binance quindi vedremo un po' quello che succederà e all'interno di questo acceleratore oggi sarà lanciata e avete pensate 48 ore se volete per partecipare alla nuova pre-sale di ME3.0 quindi andremo a parlare di questo all'interno di questo video andremo a vedere anche come potenzialmente si può partecipare e soprattutto io andrò a partecipare con un piccolo cipino quindi chi vuole può farlo ovviamente come sempre ti ricordo che non sono un ecosifianza di ecosifianza di trading è super, hyper, mega rischioso potresti letteralmente perdere tutto però andremo a vedere come si partecipa per cui per prima cosa se non l'hai ancora fatto trovi sotto il link in descrizione clicchi sopra e praticamente vai sulla sezione acceleratore ok? vai su questa sezione quindi andrà a cliccarci e ti andrà a comparire la pre-sale ok? in sostanza però come prima cosa noi praticamente eccolo qua ti comparirà qui la pre-sale ME3.0 quindi farai guarda i dettagli prima di poter partecipare alla pre-sale noi dobbiamo mettere in stake dei DeFi token quindi se già non ce li hai ok? che cosa dovrei fare? ti connetti con Metamask? ovviamente io ti consiglio sempre di utilizzare un Metamask vergine un wallet vergine nel quale metti solo un determinato numero di asset perché non si sa mai ok? la possibilità di hacking ti ricordo che partecipare a M3.0 hai ancora un giorno e 21 ore dopo sarà letteralmente lanciato il progetto e finora sono stati raccolti 49.875 dollari ma come ti dicevo prima di partecipare a questa pre-sale devi mettere in stake dei DeFi token almeno 20 dollari quindi andiamo subito a vedere come si fa il tutto praticamente voi dovete andare su Pancake Swap ok? me ne ho son preso e dovete swappare io in questo caso ho swappato 22,92 USDT ma tu puoi fare anche 20 dollari proprio praticamente coi cake quindi io vado qui mi darà 238 DeFi token ok? quindi ora vado letteralmente a swappare eccolo qua conferma lo swap 004 ok? quindi anzi andiamo a mettere un po' meno perché dopo se no non ho i soldi per pagare la tax fees quindi mettiamo un bel 003 e 7 ok? perfetto così abbiamo proprio i 20 dollari eccoli qua quindi io ci clicco qua swap andiamo belli carichi quindi swapperemo su Pancakes ok? conferma e ora io praticamente riceverò questi DeFi token eccoli qua ora ce li ho quindi cosa dobbiamo fare a questo punto? dobbiamo andare su la pagina dove possiamo mettere in staking i nostri DeFi token quindi cliccheremo qui ovviamente non appena lo farò avremo ranking ok? in questo caso sarà letteralmente ranking 1 quindi avremo dei punti per poi partecipare a per se quindi io vado a mettere ok? in stake ora i miei DeFi 2.0 quindi andrò a collegare il mio metamask eccolo qua quindi connetti andiamo subito a connettere vedete mi da il numero di DeFi che io letteralmente ho vado qui sotto io li metterò per 4 anni ok? in stake e quindi ora vi mostro come andiamo letteralmente a metterli in staking una volta fatto questo poi clicchi su stake quindi metteremo i nostri DeFi in stake I agree stake now e in sostanza ora andremo ad approvare quella che è la transazione quindi conferma e saremo letteralmente dentro ok? ragazzi quindi ora andrò a vedere come si potrà acquistare ok? all'interno di questa prima pre-sale quindi stiamo insomma entrando ci sta letteralmente staking spediamo un attimo è confermato ok? eccolo qui abbiamo messo in staking ok? tutti i nostri DeFi a questo punto andiamo sul acceleratore andiamo a selezionare quella che è la pre-sale che è esattamente finire tra un giorno e 20 ore io ti lascio ancora una volta sotto il link in descrizione e devi fare un po' queste operazioni andiamo un attimo a caricare ovviamente una volta ok? messo in staking quindi voi fannete connect wallet ok? metamask ora ci connette nuovamente quindi c'è qualche operazione a fare partecipa ora e sarà ok possibile letteralmente partecipare a questa pre-sale quindi mettiamo un importo ad esempio di 100 dollari nel mio caso decido di mettere comunque un piccolo cippino clicco su invest approva e letteralmente ho detto che andrò a partecipare a questa pre-sale quindi vedremo un po' quello che succederà se effettivamente comporterà dei guadagni o al contrario che potremo anche perdere tutto ovviamente io sono andato a investire poco ok? dal mio punto di vista perché 100 dollari non è una grossa somma che però insomma sono sempre soldi vi ricordo che ovviamente non sono né così finanziare né così trading vado a confermare quella che è la transazione ancora una volta qui ci prendono 19 dollari sulla Binance Smart Chain e dopodiché saremo letteralmente dentro a questa pre-sale quindi ora vado un attimo aspettare la transazione che come vedete è letteralmente in corso ed ecco qui completata letteralmente e per chi si è piaciuto questo video ti ricordo di di suggerire il like di iscrivervi al canale e noi ci vediamo presto hasta la vista l'hoooombre Eeeh...